Ci troviamo con il sindaco di Gavicce Domenico Pascuzzi perché andiamo a ricordarvi che venerdì inizia una serie di concerti dedicati alla grande musica, concerti organizzati da RDS e allora venerdì dove siamo e chi ci sarà? Allora sicuramente è una grande opportunità quindi è stato veramente un colpo da 90 riuscire ad essere selezionati fra le sei località in Italia per ospitare l'RDS Summer Festival. Venerdì sera è la prima delle tre giornate quindi andrà avanti dal 29, 30 e 31 quindi venerdì, sabato e domenica. Venerdì sera abbiamo come concerto serale nell'area sportiva Rocco Ant e Raff, poi ci si sposta al mare dove ci sarà allestito il Beach Village che lavorerà sabato e domenica dal mattino al tardo pomeriggio e poi la sera si continuerà con i concerti. sabato sera a Gazzelle e per domenica chiudere la manifestazione domenica sera con il concerto di Madama. Quindi grandi artisti per un grande evento che possa permettere a Gavicce di spicchiare ancora più in alto il volo.